C'è una guerra in corso. Sono il comandante di un gruppo di soldati e dobbiamo difendere una spiaggia dall'assalto dei nemici che vengono dal mare. I soldati scavano delle buche per nasconderci dentro. Mentre i nemici ci bombardano, vedo che i soldati tracciano nella sabbia con una polvere bianca il segno di una X, con un cerchio intorno. Anche per me è stato bello parlare con lei, condividere quel sogno. È stato importante per me. Mi ha permesso di capire molte cose. Anzi, volevo chiedere se nei prossimi incontri posso raccontare qualcosa di me, di quando ero bambina.